Ciao ragazzi, io sono Antonio e anche oggi, come ogni martedì, un nuovo video a tema Harry Potter è, questa volta, Unboxing Noble Collection. Ragazzi, oggi vi mostrerò un articolo appena arrivato sul mercato, l'ho acquistato subito perché non vedevo l'ora di farvelo vedere. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling potete utilizzare il mio codice sconto 7Potter tutte le volte che vorrete, finché morte non ci separi, per avere il 15% di sconto su tutto il loro sito. Quindi ragazzi, dateci dentro così sosterrete il canale. Detto questo, ragazzi, ecco qui il nostro pacco, l'ho acquistato su Amazon, è arrivato nel giro di una settimana, non era Prime, ma spero che ne varrà la pena perché dalle foto è davvero una cosa fighissima, la cosa che aspettavo da anni. Ragazzi, tanto già ve l'avrò spoilerato nella copertina, ho acquistato la replica ufficiale della Cioccorana. Io avevo da parte in libreria, come moltissimi di voi, la scatoletta della Cioccorana in vendita agli studios di Londra, ma che si trova anche alla mostra di Harry Potter come quella che c'è stata a Milano, e spesso e volentieri si trova anche online. Io ho quella scatola, naturalmente vuota, ho avuto la fortuna all'epoca di trovare la figurina di Silente, ma ragazzi, questa cosa qui promette di essere la Cioccorana definitiva. Quindi apriamo subito questo benedetto pacco perché non ne posso più di aspettare, è da una settimana che è messo da parte, quindi direi che è già abbastanza. Tiriamolo fuori perché sono stra-mega curioso. Allora, ecco qui, bene, è imballato benissimo, abbiamo una montagna di pluriball, quindi tiriamo fuori tutto, togliamo la nostra scatola e vediamo la nostra bellissima Cioccorana. Eccola qui, ragazzi. Ok, già a prima occhiata sembra una figata pazzesca. Tiriamola fuori da questa busta ed ecco che abbiamo qui la replica della nostra Cioccorana. Mi piace un sacco la scatola, ormai tutti hanno ripreso questa trama bianca ripresa dal prigioniero di Azkaban, hanno cominciato ad usarla sui pop della nuova Wave e poi è arrivata praticamente ovunque. Al momento tutto il merchandise di Harry Potter è bianco. Non so per quale motivo, tutti stanno utilizzando questo sfondo. Ma detto ciò, ecco qui la nostra confezione che già è tanto bella così da mettere esposta perché abbiamo la confezione della Cioccorana leggermente aperta con la rana che si vede qui poggiata e sotto si vede già la figurina che è sempre quella di Albus Silente. Troviamo la scritta Harry Potter sul fronte, il logo Wizarding World qui in basso e poi Chocolate Frog Prop Replica. Quindi è una replica di un oggetto di scena, come ci ha sempre abituati Noble Collection. Ma direi a questo punto di aprire la confezione. Ok, tiriamo fuori la prima protezione in plastica che è questa qui e possiamo già guardare la parte superiore della Cioccorana. È davvero molto molto ben fatta, è stampata in oro. Come potete vedere l'effetto è quello cangiante dell'oro. All'interno troviamo delle stelline e ragazzi questa qui è in plastica. È in plastica molto molto rigida e quindi durerà sicuramente nel tempo. Molto bella, quindi già la prima parte assolutamente promossa. Adesso abbiamo un'altra parte qui di plastica e poi arriviamo alla Cioccorana. Eccola qui. Wow, non me l'aspettavo. Ragazzi, guardate. È morbida. È morbidissima. Non profuma di cioccolato. Profuma di silicone. Però, ragazzi, è iper mega realistica. È davvero uguale a quella del film. Davvero. Secondo me è somigliantissima. Fatemi sapere voi nei commenti. Ma a me sembra praticamente la stessa di quella che abbiamo visto nel primo film di Harry Potter. Molto molto bella. Speriamo duri. Io temo sempre che questi oggetti così gommosi, un po' appiccicaticci, si possano rovinare perché magari si va ad attaccare la polvere, magari il sole comincia a allogorarli. Quindi credo che bisognerà stare un po' attenti e non esporla magari direttamente al sole o tenerla qui nella scatola o magari tenerla chiusa all'interno della Cioccorana. Quindi questo solo il tempo saprà dircelo. Però è molto molto bella e molto realistica soprattutto. Poi togliamo quest'altra parte di plastica. È pienissima di plastica. E tiriamo fuori la base con la nostra Cioccorana. Quindi possiamo togliere la confezione ed ecco qui. Abbiamo la figurina di Albus Silente. Sì, ok, si può rimuovere. Eccola qui. La figurina olografica. Si muove pochissimo, però un po' si muove. E sul retro abbiamo anche la storia di Albus Silente. Tutto in inglese, però ragazzi, vabbè, chi se ne frega. Davvero molto bella, però. Abbastanza rigida, in cartoncino. Mi piace. Stampata molto molto bene. E poi abbiamo qui la nostra base. Sempre con le stelline, quindi come la parte superiore. E poi sul fondo troviamo il logo Harry Potter, Warner Bros. Tutto sotto licenza. Io direi di andare a ricomporre la nostra Cioccorana. Quindi mettiamo qui all'interno la nostra figurina. Poi mettiamo qui la nostra Cioccorana. E vediamo se è possibile chiuderla. E poi sopra andiamo a mettere la nostra scatolina. Beh, sì. Direi assolutamente di sì. È molto molto bella, ragazzi. Davvero bellissima. Ne vale assolutamente la pena. Io l'ho pagata a malapena 20 euro. Non so se sono stato fortunato. Ma è costata circa 16 euro più 5 di spedizioni, più o meno. In ogni caso, la trovate linkata sotto in infobox. Beh, ragazzi, che dire. È davvero super super bella. Sono super entusiasta di questo acquisto. È della straconsiglio. Io credo che la metterò esposta in questo modo. Magari metterò questa parte qui sopra. E poi andrò a mettere anche il coperchio. Una cosa del genere. Vedremo più o meno come riuscirò ad esporla. Mi piacerebbe tenerla così aperta. Ci studierò un pochetto. Ma spero di riuscirci. Perché non mi va di tenerla all'interno della scatola. Sono sincero. Bene, ragazzi. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Questa breve recensione finisce qui. Io sono super mega entusiasta di questo acquisto. Quindi ve la straconsiglio davvero di cuore. E, ragazzi, a questo punto il prossimo video probabilmente sarà tema animali fantastici. Perché a quel punto dovrebbe più o meno essere già uscito il nuovo film. Quindi ne parleremo sicuramente assieme. Ragazzi, io vi ricordo di seguirmi su Instagram. Di lasciare un mi piace qualunque video vi fosse piaciuto. Di condividere il canale con i vostri amici. Di commentare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa rana. Se la conoscevate già. Se la prenderete. Io ve lo straconsiglio. Davvero. Credo sia il miglior oggetto Noble Collection mai prodotto fino ad ora. E devo dire che il prezzo è competitivissimo. L'ho detto bene. Non lo so. Ma, ragazzi, è davvero molto competitivo. Perché per 20 euro davvero ne vale la pena. Visto che la cioccolata, la cioccorana di cioccolata del Warner Bros Studio Tour costa qualcosa come 13 euro. Quindi non stiamo neanche qui a parlarne. Bene, la smetto di annoiarvi con i miei discorsi lunghissimi. E, ragazzi, vi do appuntamento alla prossima con tante altre novità. Ciao! Ciao!